Accumulation range, bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video, oggi facciamo il secondo episodio del nostro nuovo corso di formazione sulla trading crypto, quindi corso gratuito per il trading crypto, quali sono i pattern che funzionano meglio, le strategie di ingresso, le strategie di trading, i stop loss, i take profit e tutto quello che faremo in questa super super serie ragazzi che andrà avanti nelle prossime settimane. Oggi parliamo di una figura, un pattern che vanno a costruire le cryptovalute molto interessante che si chiama Accumulation range, questo pattern lo sta facendo proprio Bitcoin in questo particolare momento, vi spiegherò come si va a individuare, che cos'è un Accumulation range, che cosa indica sia da un punto di vista di trading ma anche da un punto di vista di oggettività quindi nei mercati, cosa cambia, cosa e perché i mercati fanno questi movimenti, come andare a individuare il giusto punto di ingresso, la giusta strategia, bla bla bla, un po' poi parliamo. Come sempre, abbraccio. Ragazzi allora prima di andare avanti però iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto perché altrimenti non saliamo più con le nostre crypto e vi rimetto il mio grande Bitcoin qui davanti a me e ho i grafici subito da mostrarvi. Allora intanto già vi dico che oggi il video di oggi lo svolgeremo utilizzando Delta Exchange, uno dei miei exchange preferiti insieme a Prime FTX in questo momento per il trading sui derivati delle cryptovalute. ragazzi, sta andando benissimo, lo sto utilizzando da x mesi, lo stiamo utilizzando anche in Academy con tutta una serie di trader che sono lì e funziona molto bene. Ha il funding bassissimo, questa è la vera differenza rispetto agli altri exchange e poi il fatto che hanno le opzioni, ragazzi. Sulle opzioni faremo anche un briefing poi nelle prossime settimane di come utilizzarle per proteggersi quando i mercati vanno giù. Delta Exchange vi lascio il link in descrizione perché vi danno un super bonus di ingresso, il 20% di quello che andate a utilizzare. Si può utilizzare solo con criptovalute, quindi non possiamo fare bonifici sempre, quindi non potete mettere qui euro, ma questo è un broker che vi fa fare cose derivate, ragazzi. Quindi per trader pro, trader che sanno quello che fanno e soprattutto per persone che vogliono provare i prodotti derivati con tutti i rischi connessi alla leva e tutto quello che c'è da sapere. Ho fatto già la video review, quindi non vi tedio con le questioni legate ai rischi di questo exchange con i futures. Ragazzi ormai li sapete, sta andando molto bene, però soprattutto risponde e guardate intanto vi faccio vedere per gli amanti di questa nostra operazione che vi ho elencato nel precedente video, quella riguardante le cripto più forti, la nostra rule che sta tentando il nuovo break. Anche questa una fase di accumulation trading in fase di break. Va bene ragazzi, link in descrizione, mi date una mano, win win come sempre, bla bla bla, e soprattutto provatelo perché è interessantissimo. Ci hanno tante cose veramente diverse rispetto agli altri indici. Allora, che cos'è un accumulation range? Ragazzi, i range che fanno i mercati e gli asset finanziari si individuano, diciamo, si dividono in due tipologie di range. Ci sono i range di accumulazione e range di distribuzione. Tutti i range appartengono ad una di queste due categorie. Poi possono essere sottodimensionati dicendo range di riaccumulazione o ridistribuzione qualora il mercato si vada a fermare, ad esempio, in una fase di trend dove poi però riprende lo stesso trend primario. Quindi ci sono i range che sono di accumulazione e distribuzione che generano una inversione di trend e invece i range che generano una continuazione del trend. Vi faccio vedere un esempio su Bitcoin così lo capiamo molto più facilmente guardandolo, ad esempio, sui grafici. Questo è TradingView, ragazzi. Allora, qui abbiamo, per esempio, la precedente fase Burran dopo la pandemia. In questo caso, dopo l'inizio di una trend che Bitcoin è andato a creare, vedete, al rialzo, si è fermato in un range. Intanto, che cosa sono i range? Sono dei momenti in cui il mercato si ferma tra un supporto ed una resistenza di natura statica, non di natura dinamica. Le resistenze dinamiche sono le trend line, ne avete sentito parlare. Queste che vedete qui sono invece le resistenze e i supporti di natura statica. Nel momento in cui il mercato si è fermato qui ha creato una range di riaccumulazione. Perché? Perché poi il trend ha continuato ad essere nello stesso del precedente. Quando invece i mercati fanno dei range di inversione del trend, allora a quel punto si chiama range di inversione oppure, diciamo, di distribuzione oppure di accumulazione. Questo, per esempio, è un range di accumulazione che però ha invertito il trend. Perché precedentemente era al ribasso, vedete, e poi è diventato al rialzo. Quindi, intanto abbiamo capito che cosa sono i range e come si dividono in queste due categorie, ragazzi. L'accumulation range o il range di distribuzione sono molto importanti e molto impattanti nel mercato delle criptovalute. Perché il mercato delle criptovalute, essendo ancora abbastanza piccolino, abbastanza immaturo da certi punti di vista, funziona molto bene con questo tipo di pattern. Quindi imparate, in sostanza, ad andare a individuare questi tipi di pattern, questi pattern di accumulazione e distribuzione, perché vi daranno grandi soddisfazioni nella vostra operatività da trader, sia nel day trading, sia anche nel trading di posizione, per esempio, per più giorni. Facciamo un altro esempio su un'altra criptovaluta che è proprio Rune, una delle mie criptovalute preferite nell'ultima settimana per il mese di marzo 2022. Siamo sempre su Delta Exchange, ragazzi. Allora, andiamo a cercare di capire come individuare questo range di accumulazione, e soprattutto come vado a strutturare i miei ingressi mettendoli proprio nell'exchange. In questo caso utilizzeremo Delta. Intanto, cliccando qui, mi sono aperto un altro tab, che è quello del grafico intero. Per fare la mia analisi grafica, anche Delta Exchange utilizza in ogni caso la struttura di TradingView, quindi è molto semplice. In questo caso sto utilizzando un time frame a un giorno, perché per questo tipo di pattern è il migliore. È anche vero, ragazzi, che potete andare a utilizzare questi pattern anche su time frame piccolini, come ad esempio un 5 minuti. Resta fermo il fatto che su time frame molto piccoli questo tipo di pattern, quindi di accumulazione range, diventano rumorosi. Rumorosi significa che le barre, i supporti e le resistenze, sono statiche, per modo di dire, perché a un certo punto vedete che fanno dei fake break a destra e a sinistra, quindi più stringete i time frame, peggio è, se volete, la purezza e la lettura più chiara. È un po', ragazzi, imparatevi a ragionare così sui mercati. Vabbè, chi ha fatto i miei corsi, una di queste cose, le conosce, a me la dito, perché sono le prime lezioni, insomma, di cui parlo in tutti i miei corsi. Allora, andiamo a vedere Rune. Dopo una struttura di trend fortemente al ribasso, la criptovaluta di Torcenzi è fermata, vedete, su questa area di supporto. Sia facendo un minimo o un doppio minimo, dopodiché ha tentato una fase di ripresa, breccandola qui, vedete, e adesso sta ritentando un nuovo break. In pratica sta creando quello che abbiamo appena detto, cioè un range di accumulazione della cripto. Questo range si può vedere in maniera molto semplice andando a creare i supporti statici, come vi ho insegnato prima, ho spiegato prima, e la resistenza statica. Ora, cosa succede? Nel momento in cui noi vediamo questo tipo di accumulation range, o in questo caso lo chiamo di accumulazione, ragazzi, e non di distribuzione, perché per me è un range di inversione, a quel punto noi possiamo andare a dire, benissimo, questo tipo di range può fare due cose, o inverte un trend che precedentemente era al ripasso, oppure crea la continuazione del trend. In questo caso noi dovremmo richiamarlo range di redistribuzione, cioè se questo trend al ribasso, dopo questa fase di accumulazione, diciamo così, di range, continua a scendere, ragazzi, diventa un range di redistribuzione. Se invece questa range fatto così diventa un range così, e poi c'è l'inversione a rialzo, questo sarà un range di accumulazione per una nuova inversione. Alla fine dei conti c'è sempre, sono sempre valide due ipotesi, ragazzi, su questi tipi di logiche. Dovete sempre imparare a ragionare, non in termini di previsione del futuro, come quello che fa l'analisi tecnica, ormai ve lo dico da anni, ragazzi, lo so che ancora circolano informazioni di un'iperignoranza su questo argomento, ma purtroppo, più di dirlo 300 volte al giorno nei video, non possiamo. Rialisi tecnica non prevede il futuro, ma pianifica strategie, cosa di gran lunga più importante di prevedere il futuro, anche perché quello non si può proprio fare, ok? E facendo questo tipo di pianificazione, quindi noi abbiamo queste due finestre di opportunità, adesso, di andare ad agire sulla accumulation range di rune, andando a capire come possiamo muoverci in un caso e nell'altro. Nello specifico, quindi, in questo momento, ragazzi, proprio il breakout che sta avvenendo, io, a dirvi la verità, questo accumulation range l'avevo già spostato un po' più basso, intorno ai 5,6, ma questo breakout che sta attentando nuovamente sui massimi dei giorni scorsi è il breakout, quindi, segnale di uscita da questa struttura di range. Questo segnale è il segnale di ingresso long, di trading long. Quindi io qui dovrei andare ad impostare una semplice operazione su un buy long se la chiusura di questa giornata è superiore a un determinato livello, che è il livello della mia resistenza, che in questo caso io ho posizionato intorno ai 5,8. Perciò, se la close del giorno è sopra questo livello, io entrerò long. In questo caso, ragazzi, se io adesso vado a immettere un ordine, mi farà l'immissione dell'ordine, però posso andare, per esempio, a dirgli in maniera molto semplice di inserire, per esempio, un ordine di buy limit. In questo caso lo devo mettere più alto, ragazzi, se no me lo esegue. Però diciamo che io, facciamo una cosa, diciamo che io voglio eseguirlo direttamente, perché immagino che la giornata sia stata chiusa, quindi in questo momento, e mi ha fatto l'ingresso buy, io vado a immettere qui, non so, 2000 dollari di acquisto. Qui vedete, qui in alto abbiamo anche la questione della leva. Potete spostarla un po' come volete, ragazzi, se non sapete come si usa la leva, mi raccomando, non andate a utilizzare queste cose. Prima studiate, perché c'è una grande, grandissima, grandissimo rischio nell'uso delle leva finanziarie, quindi mi raccomando, non sono consigli finanziari, è solo un tutorial, e soprattutto vi sto spiegando delle strategie, non è detto che poi funzionino e vadano a profitto, dovete poi proteggerle, eccetera. Quindi in questo caso, mi metto qua, per esempio, e dico, fammi un acquisto di 2000 dollari di questa cripto, bam, e il gioco è fatto. Vedete che è già entrato l'acquisto in questione, ovviamente io ho comprato così a mercato in questo momento, ragazzi, ok? E sono andato in posizione. Poi nel caso di Delta Exchange, se volessi chiuderla, vado qui addirittura anche sul grafico e chiudo la mia posizione. Questo perché? Perché secondo la strategia che vi ho fatto vedere prima, da questo punto in poi, io sto immaginando che stiamo breccando la fase di accumulation range che ha creato qui questa criptovaluta, e poi potrebbe fare un'impernata del genere. Da qui a dire che poi sale e fa massimi storici, questa è un'altra cosa, ragazzi, imparate a dividere le diverse fasi di una pianificazione del trading e del cosiddetto trading plan. Le fasi di ingresso nel mercato sono delle fasi dove noi utilizziamo delle strategie che ci minimizzano gli errori, come questa, per esempio, abbiamo trovato un pattern che è l'accumulation range, abbiamo detto dove entrare e poi eseguiamo l'ordine una volta che viene eseguito. Poi però, il trading plan ha differenti tipologie di fasi. Una di queste è come gestisco la posizione, quindi il position management, un'altra è l'exit strategy, quindi come vado a uscire prendendo take profit o stop loss, una parte la chiudo, lo scale in, lo scale out, tantissime cose che riguardano le strategie di trading. Però, oggi vi ho fatto vedere quello che è un pattern, secondo me, molto interessante relativo alle criptovalute perché spesso le cripto ragionano proprio in base a queste tipologie di range, quindi range di accumulazione o range di distribuzione se volete fare uno short selling. Chiediamoci a questo punto come possiamo sfruttare questo tipo di pattern sull'attuale situazione di Bitcoin e quali sono le possibilità che si potranno verificare per esempio nelle prossime settimane. Andiamo ad impostare una strategia, andiamo a individuare il range, l'accumulation range ipotizzato su Bitcoin, andiamo a definire dov'è il supporto, dov'è la resistenza e quale sarà la nostra strategia di ingresso un po' come abbiamo fatto come test su Rune. Ragazzi, va bene? Allora andiamo a farlo su Bitcoin, in questo caso ritorno sul mio grafico di TradingView, su Bitcoin è ancora più facile vedere che Bitcoin è proprio in un punto molto particolare, cioè in una fase dove deve decidere se questo range che ha sviluppato tra il minimo del gennaio 2022 e il massimo poi raggiunto subito dopo il 10 febbraio e poi ritestato qualche giorno fa il 2 marzo, se questo tipo di range tra questo minimo e questo massimo questo qui ragazzi che vedete sarà un range di accumulazione oppure un range di distribuzione? Questa è la vera domanda perché se è un range di redistribuzione allora significa che questo trend al ribasso di Bitcoin da qui continuerà a scendere in questo modo questo è se Bitcoin farà questo pattern come range non di accumulazione ma di redistribuzione se invece inverte come ha fatto per esempio nel caso di luglio del 2021 giugno-luio questo pattern qui questa struttura ha invertito poi ha fatto un nuovo trend a quel punto anche questo diventerà il nostro pattern di accumulazione nuova che poi porterà un breakout di questo livello per una nuova fase di trend attenzione che le nuove fasi di trend non sono definite in termini di lunghezza e durata dal pattern in questione per definire dove può arrivare dopo il breakout di un pattern di accumulazione ci sono diverse tecniche non mi parlate di ragionare in termini a quella più comune studiata anche nei libri di analisi di tecnica cioè di prendere la distanza tra questo minimo e un massimo e applicarla qui sono delle fesserie colossali ragazzi perché non hanno nessuna logica di natura matematica va bene so che l'analisi tecnica classica insegna questo può essere anche che a volte si verifichi una cosa del genere ma ditemi voi qual è la logica di prendere lineette a caso e applicarle ai mercati allora se qualcuno di voi ha una analisi statistico matematica che funziona prendere delle figure di distanza geometrica me la scrivano nei commenti ne parliamo e mi insegnate anche voi qualcosa ragazzi però per mie esperienze personali imparate a ragionare sui mercati l'accumulation range esiste perché significa in termini molto pratici che tutti gli operatori di mercato stanno attendendo un qualcosa per prendere una direzione nel momento in cui il mercato va verso una direzione tutti saliranno sul cavallo perché vogliono guadagnare magari chi era in short selling chiude le proprie operazioni quindi facendo benzina a long chi vuole entrare long entra perché ha visto il breakout e quindi si sale per una logica umana ragazzi ok non perché è avvenuto un miracolo oppure una previsione poi fin dove andiamo questo il pattern non ve lo dice perché dipende da altre strategie imparate a ragionare così prima volta che sentite questa cosa dite la verità nessuno di voi nessuno di voi l'ha mai sentita nessuno ve l'ha mai spiegata perché semplicemente non è scritta da nessuna parte questa cosa qua è un trucchettino che vi consiglio in questa fase ragazzi imparate a dividere le questioni come vi ho detto prima allora andiamo a individuare come si sta sviluppando questo accumulation range su bitcoin in questo caso ragazzi vedete dove sta bitcoin al centro quindi nella fase di io non so che cosa fare quindi proprio al centro di questa struttura prende fiato ne ho parlato anche in un recente video dove dicevo che entrare su bitcoin su questo candela di massimo era molto pericoloso bisognava attendere un pochettino perché i giochi erano fatti quindi bitcoin è ritornato esattamente al centro del suo prezzo e sta cercando una via di fuga cosa succede nel momento in cui io devo andare a inserire questo tipo di strategia e a mettere un mio ordine possiamo sempre farlo andando a utilizzare per esempio delta exchange perché possiamo andare a prendere il contratto future di bitcoin ce lo andiamo a trovare in in market qui andiamo a prendere il contratto di bitcoin usd ok ragazzi eccolo qui e finalmente l'ho trovato dopodiché andiamo a trovare questo tipo di barra che anche qui si vede e abbiamo un livello up della barra che è intorno ai 46.000 dollari allora a questo punto possiamo andare negli ordini condizionati che possiamo mettere anche su delta anche su altri exchanging potete mettere quindi mettiamo un ordine stop perché questo tipo di ordine ragazzi si chiama ordine stop se non sapete che cosa sono magari ne parliamo poi in questo corso man mano però sono tante cose nel trading ragazzi non si può presumere che sia diciamo tutto molto semplice quindi a volte bisogna un pochettino fidarsi insomma delle parole quindi allora questo è un ordine di tipo stop market dopodiché dobbiamo andare a inserire un ordine che è la 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 parte di 46 e 100 faremo così 46 e 100 come livello di price ok inserito questo livello di 46 e 100 io vado a mettere qui la quantità gli dico ok comprami 2000 dollari se il prezzo di bitcoin arriva a 46 e 100 ovviamente non dovremmo sempre attendere ragazzi il breakout perché il vero pattern di questo tipo è meglio sempre attendere la chiusura della candela però quelle sono altre tipologie di questione qui è uno stop market io gli do il buy mi chiede la conferma dopodiché vedete il conditional orders viene immessa la quantità in base al futures questo è un futures non è bitcoin vero ragazzi ricordatevi la differenza di tradare dei futures tradare dei derivati ci sono dei pro e dei contro ma dovete tenerne ovviamente conto di questa cosa il trigger price mi dice se prezzo maggiore uguale a 46 e 100 lui entrerà a lungo comprando questa quantità io a questo punto potrei anche lasciare questa operazione è così andare a dormire sogni tranquilli e se l'accumulation range verrà beccato da bitcoin la macchina anche la notte il 5 del mattino entrerà long va bene allora l'accumulation range in generale è bene utilizzarle è bene usarli con gli ingressi di natura stop mentre differenti in base ad altri tipi di strutture allora questo è il livello da tenere a mente per quanto riguarda bitcoin anche nelle prossime settimane ma cosa succede se invece rompe al ribasso perché come abbiamo detto noi ci possiamo preparare anche alla pattern di redistribuzione quindi una cosa del genere potremmo andare a immettere un ordine short selling al di sotto di questo livello possiamo farlo ancora una volta sempre su delta invece di fare un buy long faremo uno short selling perché sui derivati è possibile immettere lo short selling a differenza del mercato spot dove ragazzi non è possibile fare una cosa del genere dopodichè cosa si fa si va qui a trovare il livello di basso della range di accumulazione e redistribuzione che in questo caso è 34 33 e 9 io qua dirò se il mercato arriva a 33 e 9 e buy short selling di 2000 2000 dollari e immettimi l'ordine vado qui pack pack e l'ordine condizionato è stato immesso con il trigger price se scende al di sotto di 33 e 9 si va in short selling anche in questo caso a questo punto l'operazione entrerà in short selling solo se il mercato scende quindi voi non siete contro mercato siete flat in questo momento con il mercato e soprattutto provate a cavalcare un'onda poi ci sono 2000 problemi da andare a risolvere ragazzi andando a gestire quelli che sono i cosiddetti fake breakout da una parte e dall'altra ma questo tipo di pattern può essere molto utile per chi di voi sta iniziando a guardare i grafici con un'altra logica del non faccio la scommessa compro e basta semplicemente imparate a guardare anche queste forme di mercato e il pattern di accumulazione o distribuzione per quanto riguarda le cripto funzionano molto bene soprattutto anche con cripto più piccoline come abbiamo visto rune per esempio più tardi e bitcoin cosa farà? alla fine prenderà una di queste due strade che vi ho elencato uno di questi due ingressi sarà quello giusto quale? lo vedremo probabilmente nelle prossime settimane va bene ragazzi su con i pollici vi lascio il link di delta in descrizione vi date una mano e soprattutto vi beccate il 20% di bonus e poi noi ci rivediamo nel prossimo video ciao raga ciao a tutti